ergo arriviamo a un'introduzione anche storica degli ultimi anni non vi faccio tutta la trafila però la grande questione emersa è quella degli ultimi appunto potremmo dire gli ultimi due decenni proprio come vi dicevo all'inizio legata all'avvento del digitale cioè la rivoluzione digitale inizia a far percepire il problema della mancanza del concetto cioè fa venire meno il concetto di coppia la coppia digitale in realtà è diversa dalla coppia analogica la coppia digitale altro non è che un clone perfetto di un file una coppia digitale io faccio un file che ne so un brano musicale in versione mp3 o un video in versione mp4 sul mio hard disk lo metto su una chiavetta quello che c'è sulla chiavetta è esattamente lo stesso lo stesso clone di beat e non riesco davvero più a distinguere se non fosse semplicemente perché io mi ricordo che l'origine è il mio hard disk e la chiavetta è arrivata dopo o perché vado a vedere la data del file ma in sé a livello ontologico sono la stessa identica cosa sono un clone quindi non abbiamo più questo rapporto copia originale come invece era molto palese nel mondo nel mondo analogico insomma io ho 42 anni insomma me lo ricordo ancora un po il mondo come era prima dell'avvento del digitale dei primi masterizzatori dei primi computer e farsi un che ne so la coppia di un vinile che ti prestava il tuo amico con un disco che a te interessava molto su una cassettina audio era un'attività palesemente degradante che degradava la qualità del contenuto eppure andava bene così ci si accontentava idem nel mondo dell'audiovisivo e via dicendo cioè quindi la fotocopia nel mondo del libro cioè la coppia era palesemente coppia ok adesso invece succede questo si deprimano i 2000 si comincia a capire che abbiamo tutti a disposizione delle tecnologie a bassissimo costo addirittura costo marginale quasi zero per fare coppie che sono assolutamente affidabili e soprattutto vedete facilmente archiviabili e ridistribuibili se una coppia che è digitale la posso prendere mettere su un qualunque repository e diventa potenzialmente acquisibile da tutto il mondo potenzialmente scaricabile condivisibile con tutto il mondo chiunque abbia l'indirizzo per arrivare lì l'indirizzo url l'indirizzo web per arrivare a quella pagina o per collegarsi a quel server può scaricare quindi è davvero una rivoluzione davvero molto molto impattante per il diritto d'autore sono anche facilmente riproducibili con massima fidabilità cioè come quello che dicevamo prima una volta che uno si è scaricata quella coppia non è in realtà una copia è un clone di quello che è stato messo è stato messo online dal primo del primo diciamo violatore del diritto d'autore cioè di colui che ha fatto questa coppia e l'ha messa disposizione senza averne davvero il diritto ma questo è ciò che avviene nei primi anni 2000 ve li ricordate no insomma gli anni in cui io mi ricordo avevo un amico che quando io avevo 19 20 anni aveva il primo masterizzatore tra il nostro gruppo di amici lui era un po' diventato una sorta di santone perché era colui che riusciva a farti le coppie super super affidabili dei cd e dei dvd adesso la cosa che raccontata fa ridere no dove raccontate questa cosa a un ragazzo che invece ne ha adesso 19 e per lui non capisce il problema ma tutti adesso abbiamo la tecnologia anzi non si pone nemmeno il problema di farsi la copia su un dvd perché adesso siamo arrivati in un mondo in cui le copie sono sempre a disposizione attraverso la rete ed è esattamente questo gli anni diciamo l'ultimo decennio possiamo chiamarla era dell'accesso l'era in cui la diffusione di opere avviene quasi interamente attraverso la rete quindi il concetto l'esigenza di farsi copie su una chiavetta sul dvd su un cd viene meno non si percepisce più l'esigenza perché tanto sappiamo che da qualsiasi parte del mondo in qualsiasi momento noi possiamo accedere a una copia di un brano musicale a un contenuto audio video o un ebook quello che volete perché tanto siamo sempre connessi della rete e la connessione di rete non costa più nulla cioè comunque un costo che non incide perché è una cosa che comunque devi avere e quindi l'abbonamento ai dati che hai sul cellulare o l'abbonamento che è a casa si costa un tot al mese però è un problema che non cioè non stai lì a come dire non rientra nel costo che percepisci come rilevante per l'acquisizione di copie è un servizio che devi comunque avere perché ti serve per tante cose e quindi basta ci basta accendere schiacciare uno dei nostri fantastici dispositivi che anche questi costano sempre meno e hanno sempre più funzionalità per accedere a tutta una serie di contenuti che che sono sempre lì che ci aspettano quindi non abbiamo più bisogno neanche di scaricarli no cioè viene anche meno l'esigenza di fare il download perché tanto la musica su youtube la musica su spotify oppure i video sono su vimeo e quindi abbiamo oppure sono su netflix perché abbiamo l'abbonamento quindi è più è più il costo di star lì a fare il download che pagare i 7 euro e 99 al mese per avere tutte le serie tv e tutti i film che mi servono ok è una rivoluzione pesantissima questa che è successa nel giro di come vedete 10 anni 15 anni e quindi ha rivoluzionato un mondo che ci ha messo tre secoli ad evolversi il copyright abbiamo detto è nato il concetto di copyright è nato nei primi del settecento quindi ci ha messo quasi tre secoli per evolversi sempre pensando al concetto di copia e di controllo della diffusione della coppia arriviamo nei primi anni duemila che già questa cosa vacilla e in più poco dopo viene meno anche l'esigenza di acquisire le copie anche se fossero digitali perché tanto sono sempre su dei server ok i contenuti sono sempre lì quindi di fatto tutti hanno tra le mani la tecnologia per fare copie diffondere copie quindi un cellulare da 80 euro meno anche ormai a tutte le potenzialità per fare copie diffonderle quindi violare il diritto d'autore in modo massivo senza particolari problemi e poi viene meno l'interesse ad acquisire copie perché appunto le opere sono sempre disponibili in rete quello che credo voi stessi state la vostra attività sperimentando la biblioteca stessa ormai insomma tutto le biblioteche scientifiche ormai è più un discorso di abbonamenti alle varie le varie banche dati che di gestione dei propri archivi di gestione delle copie fatte da voi stessi dal gestore della biblioteca per gli utenti poi va beh lo vedremo meglio nell'evoluzione della del nostro del nostro corso di oggi quando quando serve in che in che forme il bibliotecario può digitalizzare fare copie e quindi ecco per studiare bene il diritto d'autore o il copyright secondo come lo vogliamo chiamare suggerisco non lo suggerisco io lo suggerisce diciamo l'approccio più classico dello studio di questa materia però di guardare di guardare i problemi con due ottiche di guardare tutte le varie questioni che analizzeremo in queste due giornate insieme due mezza giornate insieme secondo le due ottiche del titolare dei diritti da un lato e dell'utilizzatore dell'opera dall'altro cioè da un lato c'è l'interesse di colui che crea le opere le produce investe per fare opere a sapere quali sono i diritti che la legge prevede a suo favore per poter appunto tutelare la sua attività imprenditoriale creativa dall'altro ci sono tutti gli altri cioè il resto del mondo cioè tutti coloro che invece quella quella quell'opera la vogliono utilizzare quindi ovviamente vogliono sapere in quali termini quante libertà si possono in quali termini le possono possono utilizzare quell'opera e quali libertà si possono prendere in quanto utilizzatori e io qua ogni volta faccio la domanda adesso non c'è bisogno che mi rispondiate più una domanda retorica però chiedere ai miei corsisti dove si sentono dove si vedono in queste due aree blu o arancione no perché tendenzialmente appunto qua stiamo parlando a persone che lavorano nel mondo delle biblioteche uno pensa ma insomma la biblioteca è un posto in cui si raccolgono opere e quindi si mettono a disposizione opere di altri di altri utenti quindi la biblioteca è un utilizzatore di opere non crea opere le raccoglie quindi utilizza opere fatte da altri ma boh non mi sembra così vero no cioè la biblioteca di oggi in realtà il bibliotecario di oggi in realtà ha un ruolo creativo attivo cioè organi da parte l'organizzazione di eventi di fare la locandina registrare il video in cui c'è la lettura in biblioteca in cui c'è l'evento con l'autore quindi tutte attività che comunque creano portano alla creazione di contenuti originali quindi siete anche dal lato arancione non solo dal lato blu ma poi appunto quello che dicevamo prima l'attività di digitalizzazione di contenuti che sono vostri magari di cui avete tutti i diritti perché la biblioteca li ha acquisiti e quindi in quel caso siete titolari di un diritto e dovete sapere come gestirli quindi ecco in queste due giornate noi faremo esattamente quello cioè cercheremo di conoscere il diritto d'autore guardandolo in modo completo da questi due punti di vista cioè guardarlo da un solo uno dei punti di vista vi darebbe una visione assolutamente parziale succede nel senso che spesso mi chiedono corsi che sono molto focalizzati dire no vogliamo sapere quali sono le possibilità di libera utilizzazione di utilizzazione di eccezione al diritto d'autore in biblioteca e diventa un corso molto verticale di un'ora un'ora e mezza in cui fai vedere quello e basta solo che poi se manca il punto di vista invece del titolare dei diritti si perdono una serie di pezzi cioè quindi è importante per avere per conoscere bene la materia innanzitutto seguire proprio quest'ordine da sinistra verso destra cioè si inizia sempre dal lato titolare dei diritti cioè bisogna sapere quali sono i diritti che entrano in gioco in modo tale che anche quando siamo utilizzatori sappiamo di preciso cosa stiamo andando a toccare quali diritti e quali interessi stiamo andando a toccare ok quindi noi nelle nostre due giornate faremo esattamente quello guarderemo una prima parte appunto se avremo una prima parte con tutti i principi che il diritto d'autore pone a tutela delle opere poi passeremo dall'altra parte oggi sostanzialmente saremo sul lato arancione la prossima settimana martedì saremo sul lato blu ok quindi questo lo dico subito per prevenire eventuali commenti nel senso che alla fine della giornata di oggi potrebbe potreste avere la percezione che il diritto d'autore è qualcosa di un po ingombrante no un po troppo presente ma cazzo ma allora vi chiederete ma allora tutto quello che ho fatto finora non lo potevo fare no alla fine della giornata di oggi invece vi invito ad aspettare a trarre questa conclusione perché in realtà la prossima settimana invece vi farò vedere tutti gli diciamo gli spiragli di luce che la normativa ha già previsto no per consentire agli utilizzatori di avere un margine d'azione però sì effettivamente vedrete che il diritto d'autore è molto più presente di quello che normalmente si crede